E' la prima associazione di studenti e docenti, sono 40 gli iscritti di tutte le scuole della città, un comitato che raccoglie più istituti, un modo innovativo di vedere l'associazionismo studentesco. Nel giorno della liberazione hanno denunciato simbolicamente la scuola dinanzi alla questura e praticamente due rappresentanti del movimento sono saliti negli uffici della Digos. Cosa chiedono? Il rinnovamento della scuola, stantì e arroccata su vecchi modelli. Un problema di rappresentanza, quello che spiega il professor Salvatore Farina, rappresentante dei docenti che hanno aderito al progetto. E' la grande novità di questa unione, perché solitamente a protestare contro la scuola o sono appunto i ragazzi che scendono in piazza però poi non riescono a mantenere la costanza e quindi la loro protesta poi si dissolve, oppure naturalmente noi docenti protestiamo meno dei ragazzi e lo facciamo in maniera fallimentare, a meno sino adesso l'abbiamo fatto con i sindacati contro i quali secondo me dobbiamo anche additare l'indice di responsabilità perché la scuola, noi diciamo, il nostro slogan è la scuola brucia, la scuola è un disastro e questa situazione tragica nella quale è versa la scuola è anche e soprattutto responsabilità io dico della mia categoria dei docenti e i docenti che ci lasciamo soltanto rappresentare dai sindacati. Un documento reca dei punti cardine tra i quali l'introduzione dell'educazione sentimentale e sessuale, l'educazione civica e democratica, il rinnovo dei programmi di studio, una scuola ferma all'ottocento così la definiscono gli studenti e poi ancora la modifica dell'esame di Stato. Il nostro obiettivo è raggiungere una scuola che educhi i cittadini e prepari alla vita pubblica diciamo quindi una scuola che insegni anche i ragazzi a fare politica, a saper avere uno sguardo critico sul mondo e sulla vita pubblica. Punto finale è quello di riuscire a consegnare il documento stilato al Presidente della Repubblica intanto prevista una riunione con il sottosegretario alla scuola Barbara Floridia. Il documento degli studenti e docenti consapevoli mi è stato consegnato già 15 giorni fa quindi ne ero perfettamente a conoscenza è la prima volta che gli studenti insieme ai docenti si mettono insieme per segnalare delle grandissime difficoltà all'interno della scuola italiana che condivido e io durante la manifestazione ho chiamato direttamente il sottosegretario Floridia alla quale mi ha dato la disponibilità per una call già della settimana prossima.